effetto super green pass prime multe meno passeggeri in autobus violenze sangue galleria roma all'abbandono corso 11 febbraio da anni è una via cantiere rabbia tra i commercianti vismara catabrighe sarà per sei mesi il quartiere capoluogo della cultura siete su rossini tv canale 633 l'unica tv presente a pesaro e visibile in tutta la regione marche questo è il nostro telegiornale di martedì 7 dicembre che vede in queste ore concludersi il secondo giorno di entrata in vigore del super green pass in provincia di pesaro urbino sono arrivate le prime contravvenzioni al nuovo provvedimento primissime multe a fano dove due titolari di un bar si sono rifiutate di esibire il green pass con la polizia locale che ha elevato le prime sanzioni controlli a campione senza multe invece negli scuolabus dove da ieri dai 12 anni in su serve il green pass base per accedere al trasporto pubblico l'effetto di questa novità è stato quello che in questi primi incerti due giorni adriabus ha rilevato un calo d'accesso agli autobus di circa il 20 per cento giornate incerte anche fra i ristoratori pesaresi dove ora al chiuso ci si può sedere al tavolo solo col super green pass si temono cali di clientela in prossimità delle feste una rissa e il grave ferimento di un uomo hanno di nuovo turbato galleria roma area di uffici ambulatori e commercio nel cuore del centro storico di pesaro un episodio violento che si mette in fila ad una serie di vandalismi disordini e micro criminalità vi spieghiamo tutto in questo servizio di edoardo orazzi ci troviamo oggi in galleria roma un luogo adibito al commercio un'area del centro storico che spesso però si trasforma in un luogo di disagio e di risse da strada ed è quanto accaduto domenica pomeriggio intorno alle ore 15 un gruppo di stranieri provenienti probabilmente dall'est ha dato vita a una vera e propria azzuffata e loro malsana abitudine infatti quella di stazionare per lunghi tratti della giornata davanti alle vetrine della banca ormai chiusa da mesi accompagnati da tanto alcol che poi spesso accende vere e proprie liti un diverbio che purtroppo come accaduto altre volte si è infervorato anche in una domenica pomeriggio apparentemente tranquilla e che ha generato inevitabilmente del caos tra i passanti e i commercianti dell'area le persone coinvolte nell'episodio sono circa una decina e sembrerebbe che il diverbio sia stato scatenato da futili motivi dopodiché gli animi si sono scaldati, si è passati alle mani e nello scontro durato qualche minuto un uomo è stato ferito ad una gamba dalla quale ha perso una grande quantità di sangue l'arma utilizzata non è stata ancora identificata qualcuno parla di un coltello, altri vociferano che si sia trattato di alcuni pezzi di vetro derivanti da una bottiglia una scena, quella dello scontro, che come potete vedere alle mie spalle ancora presenta tracce di sangue che sono state pulite proprio in questi momenti, proprio oggi, a distanza di due giorni avvenimenti di questo tipo in Galleria Roma avvengono da diversi anni e a rimetterci in prima persona ovviamente sono i gestori dei negozi che da tempo hanno richiesto un intervento importante alle istituzioni quest'estate, per ultimo in ordine di tempo, i commercianti della zona hanno fatto una raccolta firme per poi mandare un esposto tramite avvocato alle autorità competenti senza però aver ricevuto una risposta Spostandoci di poche decine di metri da Galleria Roma ci sono altri negozi del centro storico che convivono con altre problematiche parliamo di quelli di corso 11 febbraio che sono circondati da mesi e in un caso da anni con una serie di cantieri che ostacolano l'attività commerciale Martedì 7 dicembre, mancano 18 giorni a Natale il centro storico si avvicina a grandi passi verso questo che è un momento classico del commercio annuale, quello degli acquisti natalizi negozi che hanno dovuto coesistere con diverse problematiche tra chiusura e apertura in questi ultimi due anni ma ci sono anche altri problemi ad esempio qua ci troviamo in corso 11 febbraio una delle vie in cui coesistono più cantieri che creano problematiche al commercio qui ad esempio alle mie spalle c'è il cantiere che dura ormai da anni del rifacimento della scuola Morselli ma se ne sono aggiunti altri due negli anni che continuano a minare la viabilità di questa zona e i commercianti ne risentono è un problema, è un problema di difficoltà ulteriore già dove c'è problematiche a livello di parcheggi e non è sicuramente un biglietto da visita confortante per questa via purtroppo qui abbiamo il cantiere delle ex magistrali che va avanti da anni, abbiamo già cercato di sollecitare l'amministrazione a cercare di tenere tutto più pulito, più ordinato però i lavori giustamente vanno avanti ma non finiscono mai adesso si è aggiunto anche l'impalcatura nel palazzo di fronte quindi abbiamo una situazione che non è proprio bella abbiamo i parcheggi ridotti, i passaggi pedonali più ostici la gente è costretta a passare molte volte proprio in mezzo alla strada poi c'è anche la zona del tribunale che speriamo che mettano a posto cioè in questo periodo non è proprio il massimo avere questa situazione qua anche a livello proprio di strada quindi speriamo che la gente non si spaventi troppo e che riesca ad arrivare anche nella nostra zona il nostro diciamo non è una vendita velocissima la gente vuole essere consigliata, vuole essere comunque, vuole vedere la sua maglia con calma vuole fare l'acquisto in maniera ponderata quindi non è che non si trovano parcheggi, devono venire qui, girare, girare, girare io mi stupisco di una cosa come il nostro centro storico che è una piazza bellissima piena di novità, tra virgolette ma le idee ci sono, ci sono anche i fatti ma i parcheggi dove? La gente dove parcheggia? e ci vuole anche un pochino più di tolleranza anche da parte diciamo purtroppo delle forze dell'ordine, dei vigili perché qui è una via massacrata in questo momento abbiamo il cantiere dietro, di fianco e davanti è tutto un cantiere quindi diventa un grande problema Ed ora passiamo alla cronaca perché è finito in manette un altro giovane componente della cosiddetta Baby Gang di Piazza Redi della quale ci siamo spesso occupati in questi mesi per una lunga serie di reati, violenze e danneggiamenti ad essere stato arrestato un 17enne che a luglio al Parco Scarpellini si era reso protagonista di una rapina ai danni di un coetaneo minacciandolo di morte episodio che si è aggiunto ad una lunga serie di illeciti del giovane per i quali la procura ha ritenuto la custodia cautelare la misura più idonea e le immagini che state vedendo ora sono state registrate questo pomeriggio durante la seconda giornata di riattivazione del punto drive tamponi di Pesaro era chiuso d'agosto ed ora si trova in via Lombardia per il momento resta attivo solo il martedì e il giovedì a partire dalle ore 12 anche oggi consistente afflusso di macchine e altrettanto lavoro per il personale di Asur e volontari di protezione civile che hanno sottoposto a tampone molecolare 215 cittadini prenotati dopo i circa 200 dello scorso giovedì persone che vengono sottoposte a tampone senza scendere dalla propria auto un punto tamponi riaperto dopo 4 mesi in linea ad un'ascesa di contagi che anche oggi ha registrato nelle marche 411 nuovi casi di contagio di cui 33 in provincia di Pesaro Urbino preoccupa la crescita di ricoveri oggi se ne sono aggiunti altri 6 per un conteggio che sale a 136 pazienti di cui 31 in terapia intensiva ed ora cambiamo completamente argomento si modifica la geografia industriale della chiusa di Ginestreto con il prossimo ampliamento dei capannoni dell'azienda Scavolini che ha ricevuto l'ok del Consiglio Comunale di Pesaro per i risvolti positivi in termini occupazionali che ne deriveranno Cambia la geografia industriale di chiusa di Ginestreto con l'ampliamento di una delle aziende più importanti del territorio Scavolini infatti può allargare la propria capacità produttiva grazie all'ok alla variante arrivato dall'ultimo Consiglio Comunale che porterà alla edificazione su un terreno verde di nuovi capannoni per l'azienda di cucine che per quel che riguarda la parte coperta avrà altri nuovi 13.000 metri quadrati una nuova area in parte di competenza anche del Comune di Montelabate su cui Scavolini vuole cominciare a costruire prima possibile per disporre della nuova struttura entro il 2023 La trasformazione di un terreno agricolo in industriale è stata esaminata dal Comune che ne ha valutato positivamente l'impatto ambientale e di consumo del suolo di fronte ad una edificazione reputata sostenibile e con importanti ricadute occupazionali motivo per cui non si sono trovate grosse opposizioni nel Consiglio Comunale di Pesaro Questa è una variante molto importante una variante importante anche in termini di metri cubi si tratta di una nuova edificazione su un terreno verde questo è stato molto ben analizzato in Commissione e per quanto l'impatto ambientale c'è ed è oggettivo si è studiata tutta una serie di compensazioni quindi l'imbarianza idraulica quindi la tematica dell'area verde rimessa a disposizione e anche tutta una serie di piantumazioni che sono azioni positive e che abbiamo ritenuto importanti in ogni caso si tratta di un investimento importante di un'azienda importante nel nostro territorio e questo ovviamente è una valutazione anche a prescindere dal nome e dal cognome di quella che è la società ma ovviamente è stata fatta una valutazione tecnica urbanistica da un lato e politica sulle opportunità e sulle scelte dall'altro abbiamo valutato in modo positivo perché questa edificazione che comunque all'interno di una serie di altri edifici di altre opere urbanizzate porterà al territorio un grosso valore aggiunto e inoltre per come è prevista questa espansione si tratta di un'espansione rispetto a un edificio già esistente quindi con una linea di produzione che ha bisogno di una contiguità quindi non era pensabile di poter dislocare questa capannone, questa parte produttiva in un'altra area quindi la valutazione è positiva e siamo contenti che ci siano imprenditori che riescono a continuare ad investire sul nostro territorio per portare sviluppo e posti di lavoro sul nostro territorio La caserma della Guardia di Finanza di Pesaro è stata oggi intitolata alla memoria del sottobrigadiere originario di Cantiano Nicola Ventura già insignito della croce al valor militare a partecipare alla cerimonia di intitolazione era presente oggi a Pesaro il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana accolto dal comandante delle Fiamme Giale di Pesaro Urbino Enrico Blandini Da venerdì 10 dicembre saranno in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione di prosa 2022 del Teatro Sperimentale di Pesaro la vendita si svolgerà alla biglietteria del teatro tutti i giorni fino al 20 dicembre dalle ore 10 alle 13 dalle 17 alle 19.30 il costo degli abbonamenti va dai 60 ai 150 euro saranno 36 le serate per 6 spettacoli previsti fra gennaio e maggio in una stagione che avrà come protagonisti Emilio Solfrizzi, Anna Bonaiuto, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Corrado Tedeschi, Martina Colombari, Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Ferdinando Bruni Al Cinema Solaris di Pesaro l'11 dicembre si terranno le selezioni per attori del film Lo chiamava Rock'n'Roll il nuovo progetto cinematografico del regista marchigiano Saverio Smeriglio prodotto da Isola Creativa e Imago Anime si tratta di un film che ha come obiettivo principale quello di raccontare con il sorriso il mondo della disabilità nel 2022 prenderanno il via le riprese con protagonista Andrea Montovoli il casting si svolgerà al Solaris sabato 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 16 si cercano attori con esperienza sia donne che uomini di età compresa fra i 18 e 70 anni 2022 di grandi concerti alla Vitri Frigo Arena di Pesaro chiaramente dopo i concerti già annunciati dei Manneskin il 27 gennaio e di Salmo il 6 aprile l'astronave pesarese aggiunge al suo palinsesto anche la performance di Caparezza che si esibirà a Pesaro lunedì 4 aprile sarà una delle 13 date di un tour che partirà a febbraio in cui Caparezza porterà in scena Excuvia ottavo album in studio dell'artista pugliese continua il percorso di candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 un viaggio che la città ha voluto intraprendere partendo dai progetti dei quartieri che oggi ha ufficializzato Vismara, Cattabrighe e Torraccia come quartiere di Pesaro che sarà capoluogo della cultura per i prossimi sei mesi il viaggio a tappe della candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura 2024 si arricchisce di un altro step dal luogo principe della cultura cittadina quali sono i musei civici il comune ha annunciato oggi la scelta del quartiere capoluogo della cultura per il prossimo semestre gennaio-giugno 2022 sarà Vismara, Cattabrighe e Torraccia ad ereditare il testimone dei Villa Fastigie e Villa Ceccolini quartieri che sono stati il cuore della candidatura in questa seconda parte di 2021 in via di conclusione una scelta del tutto particolare è quella del coinvolgimento dei quartieri che sta facendo di quella pesarese una candidatura unica nel suo genere nel panorama nazionale il premio di riconoscimento questa volta va al quartiere di Vismara, Cattabrighe per un bellissimo progetto chiamato il microcosmo del futuro e tiene insieme l'aspetto culturale, l'aspetto ambientale, naturalistico che era una delle cose richieste dal bando in più c'è da dire che rispetto alla precedente partecipazione c'è stata anche una grossa crescita nel generale nei progetti che abbiamo ricevuto ma anche in particolar modo da parte di Vismara e Cattabrighe quindi è un premio anche a questo tipo di evoluzione poi aver saputo tenere insieme gli elementi distintivi del quartiere quindi anche dal punto di vista identitario con anche la capacità di collegarli a quelle che sono le sfide dei cluster UNESCO quindi di stare sia sul tema della musica ma anche della grafica, della creatività, del design insomma un progetto a tutto tonno che crediamo potrà arricchire non solo per il contributo di 10.000 euro da spenderne sei mesi arricchito anche dal cofinanziamento del quartiere stesso ma in generale di attività un quartiere non centrale della città dove magari può apparire più difficile fare delle cose invece scopriremo anche in base alla creatività della proposta e anche dei modelli replicabili magari di iniziative da tenere anche in altri quartieri della città è un po' questo uno dei sensi e delle ragioni anche di questo bando che serve anche a rimettere in moto idee che poi possano essere esportabili negli altri quartieri di città o anche in altri comuni della provincia in base al percorso 2024 Soddisfazione per Eleonora Farrauto consigliere del quartiere 5 che ha presentato il progetto reputato migliore Il progetto ci era piaciuto tantissimo la collaborazione da parte di tutte le realtà del quartiere è stata straordinaria ed è per quello che insomma ci abbiamo passato molto tempo poi alla fine è il nostro tempo libero anche quindi ci siamo un po' improvvisati anche i progettisti però ci siamo anche affidati alla progettualità già pronte delle altre realtà era questo che forse la prima volta non avevamo proprio azzeccato quindi chiedendo cosa potevano loro offrire a noi come contributo per migliorare diciamo la vivibilità del quartiere l'accesso magari anche a diverse attività da parte di determinate categorie in modo da poter diciamo la linea trasversale quella di unire tutte le realtà in modo da creare delle situazioni in cui si crea la collaborazione da parte delle varie fasci di età anziani, bambini, giovani e in modo di avere un'attività che normalmente magari non si trovano ad avere nel quartiere è stata presentata a Fanno la nuova edizione dell'itinerario archeologico di Confcommercio Pesaro Urbino rinnovata nella forma e nei contenuti la guida presenta un 2022 davvero ricco di iniziative come ci spiega il servizio di Simone Celli Nuove foto, nuova copertina, nuovi testi l'itinerario archeologico si rifà il look con una veste che rinnova l'impegno di Confcommercio Pesaro Urbino nella promozione delle bellezze storiche e appunto archeologiche dei diversi comuni aderenti Sì, abbiamo supervisionato i testi del itinerario archeologico e si tratta di un ulteriore passo in avanti importantissimo per la valorizzazione del patrimonio archeologico che abbiamo nella valle del Metaura e non solo, lungo la Flaminia e non solo diciamo che l'Università di Urbino sicuramente ha come vede nel nostro territorio uno dei maggiori punti di studio Si tratta di uno strumento ponte dato che la nuova edizione è già un work in progress per via dell'inserimento di ulteriori destinazioni tra cui anche a Pecchio entrate di diritto a far parte del macro progetto denominato itinerario della bellezza e consentendo così di inglobare l'intera consolare Flaminia Penso a Cantiano e soprattutto a San Lorenzo in campo dove come sapete c'è il Museo archeologico di Suasa che condivide con il Consorzio di Castellione di Suasa quindi è un prodotto nuovo che sicuramente avrà come il precedente un mercato, un interesse molto importante da parte di chi visita il territorio per scoprire le varie eccellenze Non chiamate la guida però per quanto il volumetto che illustra le varie destinazioni sia andato letteralmente a Ruba l'itinerario archeologico è molto di più si tratta infatti di un progetto ambizioso di più ampio respiro che abbraccia tutti gli strumenti possibili del marketing turistico Sì, noi abbiamo visto nelle fiere anche in cui abbiamo partecipato quest'anno non tante perché poi per metà anno le fiere erano vietate ma il materiale è stato molto apprezzato e anche negli hotel nelle strutture ricettive negli uffici di informazione il nostro materiale è andato letteralmente a Ruba anzi negli uffici di informazione spesso ci dicono che è l'unico materiale che hanno a disposizione perché non ce n'è nessuno li fa più invece la guida soprattutto quando sono guide di cluster guide di settore hanno un riscontro molto importante da parte del pubblico e da parte dei turisti quindi noi proseguiamo su questa linea abbinando però alla guida tutte le altre attività di marketing dalla comunicazione ai blog ai social l'app le fiere gli education cioè l'importanza di questo nostro progetto che è itinerario della bellezza è il fatto che utilizziamo tutti gli strumenti del marketing per valorizzare la destinazione anzi per meglio dire per trasformare una località o più località in una destinazione turistica perché non è la stessa cosa cioè non è dire perché c'è una località è già destinazione turistica perché lo diventi bisogna fare determinate cose tra cui promozione e comunicazione la grande missione è comunque sempre la stessa mettere in rete le bellezze di più territori della nostra provincia per creare un'offerta turistica unitaria è sempre più appetibile portare turisti nel nostro territorio così ricco di questo patrimonio archeologico di questo patrimonio se vogliamo romano medievale di cui facciamo parte quindi siamo proprio all'interno vuol dire portare delle economie far girare gente nella nostra città nel nostro territorio e portarli a visitare veramente le nostre bellezze i nostri monumenti la nostra parte enogastronomica e allo stesso tempo portarli veramente alla scoperta di tutto quello che è poi nascosto ricordiamoci che siamo tra quei territori che hanno veramente delle bellezze e dei reperti storici che molti non hanno quindi questo va sicuramente sfruttato a livello economico in toto a 360 gradi facendo squadra collaborando con tutti i comuni collaborando con tutti i territori e facendo veramente rete abbiamo bisogno di capire quali sono le nostre tematiche quelle più forti e abbiamo bisogno di lavorare insieme con un unico lanciando un unico messaggio al mondo della cultura e del turismo chi siamo e che cosa facciamo e su questo devo dire che il commercio è sempre molto dinamica e quindi sta facendo veramente un ottimo lavoro di valorizzazione delle nostre peculiarità delle nostre caratteristiche di collegamento di rete tra i vari comuni lo stiamo altresì facendo con l'ambito turistico delle vallate del metallo del cesano e la conf commercio anche in questo è molto attiva e partecipa spesso e volentieri nella valorizzazione dei prodotti ecco con l'itinario archeologico si va a valorizzare quella che è la città di Fano l'archeologia della città di Fano quindi il tema della città romana i nostri siti e quindi a promuovere queste attività tutto questo in attesa di un 2022 davvero ricco di nuove iniziative l'itinario archeologico è uno dei cluster dell'itinerario della bellezza come è noto abbiamo già prodotto diverse altre materiale l'itinerario delle rocche l'itinerario romantico uscirà a gennaio l'itinerario del silenzio e della fede ma soprattutto ci apprestiamo in 2022 con nuovi progetti nuovi programmi molto importanti uno in particolare riguarda l'itinerario del San Bartolo e della riviera di Fano cioè un itinerario legato all'offerta turistica balneare mentre poi lavoreremo molto con i 600 anni di Federico da Montefettro quindi con iniziative legate a questo anniversario serata di grande sport domani 8 dicembre su Rossini TV con la sfida al vertice della serie A di calcio a 5 che trasmetteremo in diretta alle ore 20 sul nostro canale 633 l'Ital Service Pesaro seconda in classifica sarà infatti in trasferta sul campo del Petrarca Padova che la precede in vetta con 9 punti di vantaggio sui pesaresi una sfida assolutamente da non perdere sugli schermi di Rossini TV sono tante le cose che non vi dovete perdere su Rossini TV sia questa sera ma anche nella giornata di domani domani è festa è l'8 dicembre non ci sarà la rassegna stampa non ci sarà il nostro telegiornale ma i contenuti di Rossini TV non si fermano neanche nella giornata di domani intanto vediamo invece quello che sarà il programma di questa nostra prima serata questa sera alle 20.10 vedrete un approfondimento con la Conf Commercio Pesaro Urbino insieme ad Amerigo Barotti un approfondimento in cui si parlerà di turismo di iniziative che parlano del nostro territorio e poi alle 21.20 una nuova puntata di Master Fish il pesce va in onda la puntata di questa sera è la sfida che si è tenuta al ristorante Gibas non perdetevi questa puntata davvero divertente per scoprire quale sarà il vincitore appunto di puntata e poi domani sera vi ricordo che continua il nostro programma Casa Rossini quindi alle ore 19 e alle 23 proprio domani sera vedrete ospite Daniele Vimini il vice sindaco e assessore alla bellezza del comune di Pesaro continuiamo con la programmazione di domani perché alle 19.30 sono partiti come avete visto una serie di video orientamento per facilitare la conoscenza degli istituti del nostro territorio e soprattutto aiutare voi ragazzi o voi genitori che dovete iscrivere i vostri ragazzi appunto agli istituti superiori domani sera alle 19.30 vedrete l'orientamento scolastico dell'istituto agrario Antonio Cecchi non perdetevelo perché oltre ad essere una struttura bellissima come già vedete dalla foto racchiude davvero dei tesori nascosti e tanti corsi tante iniziative per gli istituti come istituto superiore e poi domani come ho detto poco fa alle ore 20 in diretta sul canale 633 chiaramente SIN BIOS Petrarca contro Italservice Calcio 5 Pesaro ho detto davvero tutto ma se volete essere aggiornati sulla nostra programmazione andate sui nostri social la nostra pagina Facebook la nostra pagina Instagram oppure sul sito rossinitv.it Io vi ringrazio vi auguro una buona giornata per la giornata di domani per celebrare l'immacolata poi ci rivediamo dopo domani sempre su Rossini TV ci r instrήrum si Aahe Grazie.